Quando si comincia, si comincia sempre con ritmi molto blandi, è ovvio che poi con il tempo le cose cambieranno. Comunque il gruppo non è ancora ben definito, ho visto che sono belli applicati, per cui ci vorrà un po' di tempo, ma sono certo di poter avere a disposizione un'ottima squadra. Anche numericamente, ne mancano altri cinque pezzi, cinque calciatori che debbono necessariamente creare una giusta e motivante competitività tra di loro nello spogliatoio. Abbiamo trovato prima di tutto una società ambiziosa, però molto disponibile, per cui noi a questa disponibilità dobbiamo necessariamente rispondere con maggiore e sempre crescente convinzione in tutto quello che faremo sul campo. Per quanto riguarda l'entusiasmo fuori, sapevamo anche di questo, anche i tifosi si aspettano molto e queste sono tutte condizioni molto stimolanti per noi. La Serie D impegnativa, impegnativa e anche tecnicamente molto valida, anche perché ho visto diversi calciatori anche di categorie superiore che si sono accasati con diverse squadre di Serie D. In più bisogna vedere anche la Bari che cosa farà. Se dovesse rimanere così come l'anno scorso il girone, questo girone H è un girone dove bisogna far prevalere la propria forza. Noi ce l'abbiamo, ne siamo convinti e la mostreremo tutte le domeniche.